Mi chiamo Raffaele Capitanio e sono responsabile del miglioramento genetico del mais in Sud Europa. Il mio lavoro è molto semplice e consiste nel fare piante di mais migliori di quelli che ci sono già. Ma cosa vuol dire migliori? Migliori vuol dire come produzione, migliori vuol dire come sanità e qualità alimentari, migliori vuol dire con meno malattie, con meno funghi, quindi con meno tossine e quindi che generano dei prodotti più sani e nutrienti. Migliori vuol dire anche per l'uso delle risorse naturali come per esempio l'acqua, cioè una pianta di mais che con meno acqua produce uguale oppure una pianta di mais che con meno concimi produce uguale oppure più resistenti ai fattori climatici come le alte temperature o le basse temperature. Per me la ricerca è il contributo che noi possiamo dare a migliorare l'alimentazione nel mondo.